Ok ragazzi, siete un politico dal passato travagliato. Siete stati espulsi dalla Lega Nord per indegnità morale e politica. Avete combattuto contro il Green Pass e difeso a spada tratta la famiglia tradizionale, prendendo per il bipulo le persone che hanno un orientamento bipale diverso dal vostro. Ma avete detto anche delle cose giuste, del tipo le armi non sparano da sole e grazie a queste solide convinzioni siete riusciti a farvi strada in un partito che è passato dal 4 al 30%, fratelli d'Italia, e siete quindi riuscito anche a farvi eleggere parlamentare della Repubblica Italia. Quindi, se come tale, dopo aver finalmente ottenuto il porto d'armi per la difesa personale, decidete di andare alla festa di fine anno portando con voi il vostro mini revolver nuovo di pacca, che cosa potrà mai andare storto? Diciamo che date le premesse, io ho una mezza idea, ce l'avrei! E l'ho già espressa in questo video che vi linko qui sopra e qui sotto. Dateci un'occhiata perché sostanzialmente la mia opinione in diritto resta esattamente la stessa anche prima che emergessero tutti questi dettagli. In questo video analizziamo i nuovi elementi, e sono tanti, che sono emersi nel corso delle ultime 24 ore. E come direbbe il mitico Barbascura X, lo faremo male! E cioè in modo scientifico ma divertente. Iniziamo col dire che a distanza di più di 48 ore, 72 ormai, i mass media non sono ancora riusciti a ricostruire in modo organico gli eventi di quella sventurata festa di fine anno. L'opinione pubblica sostanzialmente è divisa in due. I fan del cinema americano demenziale pensano che sia accaduto qualcosa del genere. Mentre le persone più acculturate, di buon gusto e ammiratori del cinema italiano ritengono che la dinamica dei fatti si avvicini di più a questa. L'unica cosa che possiamo dire con certezza è che mentre un sottosegretario del governo del Mastro stava provvedendo a caricare sull'automobile parte del cibo avanzato durante la festa, confermando e lasciando spazio per sostenere che all'interno del governo c'è sempre magna magna, uno degli ospiti, un ragazzo relativamente giovane con due figli piccoli e un suocero che operava nella stessa scorta del sottosegretario, si è ritrovato con un proiettile calibro 22 LR conficcato proprio al di sotto del gluteo o di uno dei due glutei, perché normalmente i glutei sono due. In alcune fonti di stampa è stato riferito che gli è stato estratto il bossolo del proiettile, ma voglio sperare che si tratti di un refuso. Normalmente è il proiettile che colpisce il bersaglio, non il bossolo. Inoltre non è per essere pignoli, ma normalmente il bossolo nei revolver resta all'interno del tamburo, tant'è che per ricaricare un revolver normalmente si deve fare una mossa bippissima alla giga. A parte il fatto quindi che questi articoli vengono normalmente scritti da giornalisti pseudo-pacifisti che un'arma non l'hanno manco vista nei videogiochi, Resta il fatto che questo giovane uomo slash ragazzo slash padre di famiglia è stato tremendamente sfortunato da una parte, perché per l'appunto si è beccato un proiettile in corpo, ma è estremamente fortunato dall'altra perché il proiettile praticamente non gli ha arrecato alcun danno. Se l'è cavata, se i dati ufficiali o perlomeno i dati diffusi dalla stampa sono corretti, con sette giorni di prognosi. Per certi aspetti è un miracolato. Intendo dire, io non sono un fan del calibro 22LR, ma tutti quanti sappiamo che questo proiettile ha la pessima tendenza a causare emorragie interne. E se ti becca male o bene, puoi lasciarci le penne fra dolori atroci a distanza di ore dalla lesione. Quindi è indubitabile che qualcosa sia accaduto e che soprattutto sia stata l'arma dell'onorevole a sparare. Ora, come l'onorevole stesso ha affermato nel 2015, in un post che ormai è stato cancellato, le armi non sparano da sole, contrariamente a quanto ritenevamo noi bambini nel 1984 giù di lì. Il fatto che dopo tre, quattro giorni non sia ancora emersa una chiara dinamica dei fatti è alquanto inquietante da una parte, ma soprattutto, mediaticamente parlando, è un disastro. Chiunque, apprendendo di questa vicenda, è istintivamente portato a riempire i vuoti, le lacune nel racconto, nel modo che crede più opportuno. E questo significa vedere l'onorevole fare cose particolarmente stupide, esattamente come nei film comici che abbiamo visto all'inizio del video. Non voglio assolutamente essere offensivo, ma è un dato di fatto che l'onorevole in queste ore è diventato fondamentalmente un meme vivente. Qui, per esempio, il pubblico se lo immagina mentre chiede scusa, abbigliato in stile Ferragni, chiaramente. Qua lo vediamo valutare l'opportunità o meno di andare alla festa con la tipica frase mi si nota di più se non vengo oppure se vengo e spara qualcuno e via discorrendo. Personalmente, se mi fosse capitato l'incidente che è accaduto all'onorevole, mi sarei consultato con i miei legali e poi avrei convocato una conferenza stampa per dare la mia versione dei fatti. Poi, naturalmente, questa vicenda andrebbe trattata sotto due, tre profili minimo. Uno è quello giuridico, vi rimando al video dell'altro ieri. Altro è il profilo amministrativo, che adesso approfondiamo grazie ad ulteriori elementi che sono emersi. E infine c'è anche il profilo sociale e politico, che non può essere trascurato. Iniziamo dal profilo sociale slash amministrativo. Secondo alcuni, l'onorevole aveva comprato la pistola e chiesto al porto d'armi perché si sentiva minacciato. C'è stato un attentato a un politico che faceva parte di Vox e lui temeva, torto o a ragione, di essere nel mirino di qualcuno. Il che, naturalmente, ci può stare. È legittimo volersi difendere. Ma, se io sono al corrente o ho motivo di ritenere di essere in pericolo, io non solo giro con la pistola, ma resto sobrio. Mi sposto quando sono al massimo della mia forma e non c'è nulla che possa rallentare i miei riflessi. Non esiste scenario in cui, se io rappresento un pericolo o sono a rischio di attentati, vado sportivamente a una festa in cui ci sono anche dei bambini. E, soprattutto, se ci vado armato, ci vado al meglio della mia forma. Non bevo, non faccio uso di farmaci che possono rallentare i riflessi o condizionare il mio giudizio. È la regola base. E, ragazzi, si va di bene, eh? Io non sto dicendo che l'onorevole era allegro, come riportano alcuni fonti di stampa. Sto parlando in linea generale. In linea generale, in teoria, non dovresti neanche andare alle feste all'una o alle due di notte, perché, chiaramente, puoi avere sonno e puoi avere i riflessi rallentati. Questo è il dato di fatto. Se ritieni che la tua vita sia in pericolo, devi comportarti in modo prudente. Normalmente, inoltre, non è mai solo la tua vita in pericolo, ma è in pericolo anche la vita di chi ti sta attorno. Quindi, io a una festa luna di notte non ci sarei andato e men che meno ci sarei andato in presenza di bambini. In ogni caso, comunque, verosimilmente, l'onorevole può dire addio al suo porto d'armi. Come abbiamo già precisato nello scorso video, infatti, non esiste un diritto assoluto e innegabile a portarsi in giro un'arma in Italia. L'autorizzazione al porto per la difesa è amministrativa e, normalmente, le autorità competenti al primo incidente o rischio incidente che si verifica te lo ritirano. Come ripeto sempre negli ultimi anni, pare che il ministero competente sia orientato per limitare al massimo il numero di armi in circolazione. Su alcune fonti di stampa si dice addirittura che l'onorevole abbia altre sei armi oltre a quella già sequestrata. E anche questo dettaglio ha scatenato non solo l'ilarità della rete, con meme tipo questo, con Zelensky che chiama Pozzalo per farsi passare per l'appunto qualche arma e qualche cartuccia in più, ma anche l'attenzione degli organi di stampa e di informazioni internazionali. Il nostro onorevole è finito praticamente in prima pagina del sito della BBC per rendere l'idea. Ma parlano di lui anche su tutte le altre testate, come risulta evidente. E naturalmente, contrariamente a quanto sostengono le opposizioni, quanto è accaduto non riguarda minimamente la politica. Non è che se sei dirigente di un partito o candidi qualcuno, puoi prevedere che si comporti in maniera indegna alla prima occasione in cui deve maneggiare un'arma. Non è che prima di candidarti ti caricano su un vecchio C-130 e ti danno un calcio nel fondo schiena mentre sorvoli un territorio nemico, dicendoti se riesci a rientrare salvando quattro vecchiette e cinque prigionieri di guerra ti candidiamo. Non funziona così. Tuttavia, può e deve essere invece valutato il comportamento tenuto dal deputato, dal senatore o comunque dal parlamentare in una situazione come questa. Insomma, tu rappresenti la Repubblica Italiana, non collabori con la magistratura e un tuo diritto non farlo come cittadino, ma come politico se ti comporti in maniera non trasparente beh, diciamo che forse, forse, forse non sei adattissimo per restare nel partito che ti hai eletto e quindi magari è meglio se ti dimetti dalla carica di parlamentare sarebbe l'over the top, non lo farai mai perché quella deve essere una tua decisione, ma quantomeno sospenditi dal partito, dimettiti dal partito, passa al gruppo misto, è proprio il minimo, minimo, minimo sindacale, anche perché se non lo fai tu ti sbatto io fuori dal partito, o di imperio come capo politico, oppure mediante l'organo disciplinare che normalmente è il collegio dei propri viri. Poi, ripeto, sono avvocato, gli indagati slash imputati hanno tutto il diritto di difendersi come meglio credono e al meglio delle proprie possibilità, ma politicamente parlando certi comportamenti non te li puoi permettere. Se hai partito per errore un colpo dalla tua arma, ammettilo e chiudila lì. Se non eri in condizioni di ragionare, ammettilo e chiudila lì lo stesso. Siamo in Italia, non ti può succedere nulla di male o di particolarmente brutto. per cui regolati di conseguenza, consultati prima con il tuo difensore, segui la linea che suggerisci. Se quella linea è in contrasto con quello che ci si aspetta legittimamente da un parlamentare, sei libero di dimetterti dal ruolo, non lo farai mai, è inutile che ci prendiamo in giro, o quantomeno sei libero di uscire dal partito e entrare nel gruppo misto. È davvero il minimo sindacale. Non parliamo poi della tua reazione e del voler utilizzare in maniera puramente emulativa e strumentale il privilegio dell'immunità parlamentare. L'immunità parlamentare è nata per evitare persecuzioni dei parlamentari. Probabilmente il parlamentare di cui stiamo parlando non se lo ricorda, anche se mi risulta che fosse un grandissimo fan del Presidente del Consiglio durante il ventennio e cioè di Mussolini, ma a quell'epoca se non facevi tutto quello che diceva il governo come voleva il governo quando voleva il governo finivi in guai seri e non era così strano che venissero costruite delle prove contro di te per incastrarti e toglierti a viva forza dal Parlamento. Questo principalmente accadeva ovviamente agli oppositori del regime ma qualche volta c'era anche qualcuno all'interno del Partito Unico che superava delle linee che non avrebbe mai dovuto superare e veniva rintuzzato per non dire fisicamente contenuto mediante alcuni processi più o meno farsa e delle condanne molto alte. Se volete farvi un'idea di quello che poteva accadere guardate quello che sta combinando al giorno d'oggi Vladimir Putin in Russia nei confronti dei suoi oppositori. che poi magari Putin non c'entra anche direttamente il suo governo i suoi funzionari i suoi giudici possono essere sportivamente più realisti del re. Ma qui è evidente che non c'è nessuna persecuzione in corso ai tuoi danni e detto fra parentesi da uomo sarei anche curioso di sapere per quale motivo qualcuno dovrebbe rovinarti inventando una storia del genere. Per quanto mi riguarda non esiste alcuna possibilità su diversi miliardi di ipotesi e situazioni. Quindi verosimilmente quella sera è successo qualcosa ma qualunque cosa sia successa hai fatto una bippata enorme. Prendine atto rimedia perlomeno fatti da parte non fare la parte della vittima. La vittima è un'altra. Tra l'altro ti sta andando di lusso perché comunque quella persona non ha neanche sport o querela e te la cavi verosimilmente con la perdita delle tue armi. Lo so è brutto ci sarai anche affezionato ma non è la fine del mondo. Non è neanche la fine della tua carriera politica. Pensa un po' quanto è tollerante e avanzata l'Italia. Poi naturalmente non è una posizione facile non è certamente una posizione comoda perché anche la procura ha aperto un'indagine nei tuoi confronti contestandoti apparentemente tre capi di imputazione o perlomeno questi sono i capi di imputazione che sono stati iscritti al registro. Questi tre capi sono lesioni colpose omesso controllo dell'arma e poi c'è un reato che giuro non avevo mai sentito in oltre 23 anni di carriera che è accensione ed esplosioni pericolose. Ho scoperto che è un reato che prevede una condanna o un'ammenda per chiunque accenda e faccia esplodere qualcosa. Sinceramente non credo che si possa adattare al fatto che parta un colpo accidentalmente con la pistola quello rientra già nelle lesioni colpose secondo me per cui la procura competente sta procedendo per questi tre reati. Ho già spiegato per quale motivo verosimilmente se si continua sotto questo profilo l'onorevole giuridicamente parlando potrebbe anche cararsela. Se si tratti di lesioni colpose queste lesioni sono sole a sette giorni quindi la procedibilità dipende dalla volontà della persona offesa da reato. Quindi se la persona non sporge e querela il problema per il politico non dovrebbe porsi. Fra le aggravanti delle lesioni colpose non mi risulta ci sia quella dell'arma che rende automatica o perlomeno procedibile d'ufficio il reato. Mai capitato nel corso di 23 24 anni che qualcuno offerisse qualcun altro in circostanze simili a queste normalmente tutti quelli che conosco io quando usano l'arma non la usano per sbaglio possono eventualmente effettuare un errore di valutazione ma vogliono ottenere esattamente quell'effetto sinceramente in 24 anni questa è la prima volta che mi capita di vedere una persona che per qualche motivo esplode un colpo beccando qualcuno per errore in una situazione che non è estrema e in ogni caso i danni che subirà l'onorevole saranno decisamente limitati fosse in lui mi preoccuperei più che altro di risarcire il danno subito da quel povero ragazzo che è stato attinto alla gamba o quasi al gluteo ultima nota di colore triste consiste nel fatto che questo incidente sia avvenuto alla presenza di bambini e anche qui si rafforza la mia ipotesi in base alla quale se porti in giro con te un'arma devi sempre 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 essere al massimo nella forza ma non ti devi distrarre non devi avere pensieri particolari devi sempre essere lucido queste sono proprio le tre regole di base poi ripeto gli errori possono capitare ma quando capitano non lamentarti che lo stato è brutto e cattivo con te semplicemente lo stato sta difendendo le persone che tu in determinate circostanze non hai assolutamente difeso anzi forse hai contribuito a metterli in pericolo per cui chiaramente adesso l'onorevole perderà il porto d'armi perché guardiamoci negli occhi ho visto ritirare porti d'armi per molto molto meno e non c'è mai stato verso di recuperarli però di danni seri e rilevanti l'onorevole al momento attuale non ne riporta con un po' di fortuna quelle procedure che sono state aperte non andranno da nessuna parte o la sanzione sarà minima sarebbe il caso di valutare invece qual è la sanzione per l'italia dopo uno strafalcione del genere ma questo magari lo vediamo in una prossima puntata e voi che cosa ne pensate di tutta questa vicenda come sempre fatemelo sapere lasciando un messaggio qui sotto se poi vi piacciono i miei video valutatevi di diventare un patreon o in alternativa quanto meno iscrivetevi al canale attivate la campanella così sarete informati sulle nuove uscite anche se io normalmente pubblico verso le 14 e 30 15 e 30 un video a tema costumi italiano politica italiana diritto italiano e poi naturalmente la sera dalle 8 e mezza alle 10 e mezza di sera pubblico uno o due video relativi alla geopolitica la campanella dovrebbe avvisarvi su queste uscite poi naturalmente oltre a questo ricordatevi di condividere i link dei miei video con gli amici per dare un pochino di visibilità al canale e infine di lasciare un mi piace grande e grosso per raggiungere lo stesso obiettivo e farmi anche un pochino di coraggio e incoraggiamento ecco come sempre grazie di tutto per tutto e a presto